Nel giro di poche ore questa foto di Paolo Bonolis ha fatto il giro del web ed è stata proprio la moglie Sonia Bruganelli a postarla sui social network commentando ricordati che deve morire, tormentone della trasmissione avanti un altro e rassicurando nel frattempo i fan con l'hashtag adesso meglio. Il presentatore ha accusato un malore ed è stato portato al pronto soccorso di Orbetello. Qui, come racconta la moglie Sonia nei commenti alla foto, in molti hanno pensato bene di fotografare il conduttore con i loro cellulari mentre veniva portato via in barella. Di fronte a tanta invadenza e insensibilità, la Bruganelli ha pensato bene di postare lei stessa la foto rovinando così lo scoop ai paparazzi improvvisati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.